spesso sento dire a chi vende casa che la loro è differente è più bella e più grande il pavimento in parquet i bagni sono di design eccetera 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 purtroppo queste migliorie che sono care all'attuale proprietario che sono magari costate fior di soldi in realtà non aumenta una possibilità di venderla casa anzi il contrario ti sembrerà strano ma se ci pensi è facile comprendere come ogni modifica che piace un attuale proprietario potrebbe non piacere affatto a chi visiterà quella casa tutto relativo e tutto è soggettivo perché che magari è costato un occhio della testa potrebbe essere proprio il motivo che invece impedisce l'acquisto della casa ad una coppia che perché proprio non sopportano in questo caso al prezzo richiesto l'acquirente valuta anche il costo di dover smantellare metri quadrati di legno per sostituirlo che ne so con del cotto fiorentino non è la prima volta che vedo sventrare una casa a prima vista perfetta per diventare tutta un'altra casa a gusto dei nuovi proprietari ecco che la grande differenza non viene dal definito della casa non viene valutata per modifiche estetiche volute dagli attuali proprietari che non abbiano un vantaggio reale ma viene solo grazie dal come la casa viene presentata al mercato in che modo il tuo immobile pubblicizzato su quali piattaforme con che modalità metodologia e media quasi sempre proprietari di casa sono prontissimi a rispondere di quanto hanno speso per il loro prezioso perché ma non sanno neppure quante agenzie stanno presentando casa loro come dove e a che prezzo la più bella delle case ripeto può piacere o meno dipende dal gusto di chi la guarda invece il modo con cui viene presentata fa la grande differenza vieni a parlarmi della tua casa del perché la vuoi vendere o del come mai non sei ancora riuscito a venderla io presento gli immobili che decido di eseguire in un modo completamente diverso alle altre agenzie si chiama video marketing immobiliare e significa vendere casa tua prima e meglio